Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Ragazzi, oggi finalmente vado a testare un prodottino che lo stavo aspettando da tantissimo tempo Ho qui un mio carissimo amico che ha questo prodotto Quindi direi di non perderci assolutamente in chiacchiere e andarne a parlare subito dopo la sigla Ok ragazzi ed eccoci qui, lui è Enrico Primavera, vi lascio i link del suo Instagram e del suo YouTube qui sotto in descrizione E qui al mio fianco mi ha portato veramente tantissima attrezzatura A partire dalla GH5 al Ronin S che è veramente una figata Adesso andiamo a montare e stabilizzare un pochino il tutto e vi faremo vedere qualche clip figa Ok ragazzi, dopo aver effettuato tutte le regolazioni siamo stati un bel po' perché prima avevo provato a montare la mia Sony Alpha 5100 Ed è andata veramente malissimo Adesso andiamo a fare il test per vedere se funziona tutto correttamente E poi andiamo a fare qualche bella clip direttamente con la GH5 Ok ragazzi, ciao! Ok ragazzi adesso la clip sarà sicuramente più stabile Perché sono con questo magnifico Ronin S e registrato direttamente con la GH5 Beh ragazzi devo dire che questo prodotto è veramente stupendo Sicuramente lo acquisterò, lo porterò qui sul canale Ma devo assolutamente cambiare la mia Sony Alpha 5100 Perché semplicemente è troppo leggera per questo Ronin S Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato vi raccomando lasciate un bel like qui sotto Iscrivetevi al canale, attivate la campanella Seguite il mio amico Enrico e beh noi ci vediamo domenica prossima Sempre qui sul mio canale YouTube